Così come da programma, questa mattina ha fatto il suo solenne ingresso nell'Arcidiocesi di Rossano Cariati il nuovo Arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Aloise. L'Arcivescovo è arrivato al mattino e ha vissuto il primo contatto con la nostra diocesi presso il campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, dove, come da protocollo, si è svolto un momento di preghiera molto partecipato ed una intensa benedizione. Poi successivamente è stata la volta della visita alla parrocchia di Santi Pietro e Paolo, sempre nel comune di Tarsia, prima comunità parrocchiale dell'Arcidiocesi che incontrerà lungo il percorso del suo arrivo. A seguire l'Arcivescovo ha effettuato una sosta in preghiera nel santuario di Santa Maria delle Gratia di Spezzano Albanese, quindi attraverso un itinerario ricco di incontri con persone e realtà significative del territorio diocesano, e poi arrivato a Corigliano Rossano. Qui in programma dapprima una visita presso il centro vaccinale AB in Corigliano Rossano e poi nel pomeriggio alle ore 17.30 nella cattedrale di Maria Santissima a Chiropita per l'inizio dei riti previsti per l'insediamento del nuovo pastore. Monsignor Aloisi ha espresso il desiderio che non si facciano donne alla sua persona in occasione del suo ingresso e quando si vorrebbe destinare a questo scopo può essere versato su un conto corrente bangario intestato all'Arcidiocesi di Rossano, cariati appositamente comunicato ed indicando come causale offerta per la carità del Vescovo. E' infatti volontà dell'Arcivescovo destinare il ricavato dell'offerta per l'acquisto di dosi di vaccino in India. A causa delle norme di contenimento del contagio da Covid-19 l'ingresso per la cerimonia in cattedrale naturalmente risentirà delle norme di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto. Per consentire una maggiore partecipazione è stato predisposto Maxi Schermo in Piazza Duomo che trasmetterà in diretta le immagini della celebrazione eucaristica.